Nel video precedente ci siamo divertiti a piantumare un po' tutto il territorio, oggi si ritorna ancora agli strumenti che permettono di creare monti e in particolare degli alti piani oppure dei bassi piani, dalle spianate. Buona visione. Ho riorientato la mappa in quest'area un po' sgombra perché ho intenzione ancora di divertirmi con la mia mano da dio a creare alture e affossamenti però con una modalità diversa, molto utile quando vogliamo creare alti piani o comunque piattaforme su cui puoi disporre edifici, piattaforme per elicotteri, cose di questo tipo. Useremo questo bottone. Ormai avrete imparato a riconoscere l'effetto del brush side, cioè la dimensione dell'area intorno al mouse, l'intensità dell'effetto, l'opacity. Questo height è ciò che rende particolare questo bottone. Crea alture fino a un'altezza specificata, dopodiché le spiana in cima, similmente quando andremo a disegnare in profondità. Qui l'unico trabocchetto è capire come intendere questo height, l'altezza. Guardate cosa succede se andiamo ingenuamente ad impostare questa altezza, non so, 30. Ci si immagina allora di poter creare appunto una specie di collinetta a fin circa i 30 metri e invece quello che succede è proprio il contrario. Un bel buco! Ci siamo dimenticati del fatto che rispetto al mondo 3D reale il nostro terreno l'abbiamo sopraelevato, se ricordate, di 50 o 60, questo invece non mi ricordo io. Comunque più o meno così, o 50 o 60. Questo proprio per darci la possibilità di andare a scavare al di sotto di quello che è il livello 0 nel gioco, che non risponde però al livello 0 come coordinate 3D nel motore di Unity. Quando abbiamo utilizzato lo strumento specifico per aggiungere le montagne, che era questo, lo strumento teneva conto automaticamente del fatto di dove si trovi in realtà per noi il livello 0 del terreno. Per cui andando di clic sinistro alzava montagne, mentre tenendo premuto lo shift andava a scavare gli avvallamenti. Qui invece dovremmo tenerne conto noi. Annullo con CTRL Z, provo a mettere 50, se era veramente 50, cliccando non dovrei modificare nulla. Perché vorrebbe dire, guarda, alza fino a raggiungere l'altezza 50, cioè lo 0 per il terreno, quindi non dovrebbe né alzarsi né abbassarsi. Si abbassa ancora, è abbastanza, quindi vuol dire che, ricordavo male, non è neanche i 60, probabilmente è più verso i 70 il limite che abbiamo imposto. Provo con 70. E sì, vedete, il terreno rimane inalterato. 70 è l'altezza proprio dallo 0, dal 3D come coordinate, dal mondo 3D, a dove io ho deciso di piazzare il mio terreno. Provo allora con 90. Vuol dire che la collina, o quello che è, verrà alzata fino a quel livello, vedete, poi viene spianata. E' un po' come lo strumento di prima, e poi è come se tagliassi con un gran coltello, una cesoa, zac! E ottengo questo, all'altezza stabilita qui. Però, tenendo conto di qual è l'altezza reale del terreno rispetto allo 0 geometrico. Quindi, se vado a utilizzare una cosa così, come forma, anzi un po' compattina, dovrei ottenere una specie di effetto piscina, rettangolare. Vediamo un po' per la piscina, se 70 è lo 0, facciamo 67, e abbiamo 3 metri in profondità. mazza, però viene fuori una piscina enorme. Qui, una piscinetta. Beh, ancora una signora piscina, eh. Beh, d'accordo. Ecco, raggiungendo un po' di marmo prezioso, poi l'acqua ci sarebbe. Vedremo più avanti come fare. Le due tecniche possono essere combinate per ottenere un effetto calderone, geyser, non so. Di nuovo dovremmo metterci acqua, vapore. E con un po' di pazienza, e con altre altezze, potremmo invece costruirci un vulcano. Mi avvicino al cocuzzolo. Questo, perché voglio spiegarvi a cosa serve invece questo hold shift to sample target height. Vuol dire, guarda, tocca tu il punto più o meno dove vorresti arrivare. Definisci l'altezza con un clic, un po' come quando con lo strumento contagocce in uno programma da disegno si va a scegliere un colore cliccando sul disegno stesso. Va bene. Però, tenendo premuto lo shift, quindi tengo premuto, dovrebbe compilarsi in automatico la casellina height. Vado qui e dico, guarda, più o meno l'altezza giusta per spianare, voglio fare una piattaforma per elicotteri proprio in cima qui, o metterci una chiesetta o un monastero, clicco, ed ecco qui il nostro sample. Adesso allora andiamo ad applicare lo strumento, ed ecco il risultato, abbiamo la nostra piattaforma. Cercare di ottenere un effetto tipo vulcano non è facilissimo lavorando da questa angolazione. Potrebbe essere interessante applicare, andiamo però prima a selezionare lo strumento ancora, non 121 ma 70 per scavarlo fino in fondo. Dicevo, andare nella lista dall'alto e poi lavorare da qui. Vediamo un po' cosa abbiamo ottenuto. Torno, spostamento. Ok, qui è un po' esagerato, però vedete che questa volta somiglia un po' di più alla bocca di un vulcano. Poi andrebbe aggiunto la sua giusta texture, un po' di rocce, non voglio dire.